L'inchiesta sulla strage di H. Larenzia non porta all'individuazione di una pistola mitragliatrice Scorpion come una delle tre armi usate nell'attentato. Però nel 1978 avviene un altro delitto, ovviamente il più importante di tutti gli anni di Piombo, che è l'omicidio Moro. E i periti che analizzano i proiettili utilizzati per l'omicidio del presidente della democrazia cristiana arrivano alla conclusione che una delle due armi utilizzate è una pistola mitragliatrice Scorpion. La strage di H. Larenzia non è dimenticata soltanto perché è compiuta nell'anno della strage di Viafani con l'eccidio della scorta e il rapimento di Aldomoro. Il 7 gennaio del 1978 Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, militanti della destra romana, caddero morti sotto i colpi di un commando di estrema sinistra, rimasto anonimo ancora fino a oggi. Il giorno successivo, durante scontri avvenuti con le forze dell'ordine dinanzi alla sede del movimento sociale, dove i camerati delle vittime dimostravano contro la strage, un terzo ragazzo, Stefano Orecchioni, cadde sotto i colpi esplosi da un capitano dei carabinieri, poi assolto in fase di giudizio. Una mattanza che segnò un ulteriore balzo in avanti dell'omicidio politico in Italia negli anni 70, un episodio che a nessuno piace ricordare. Nonostante decine di pentiti delle organizzazioni armate della sinistra, nessuno si è mai attribuito la strage di H. Larenzia. Alla strage bisogna aggiungere un'altra vittima, Mario Ciavatta, il padre di Francesco, che si suicidò per il dolore ingerendo una bottiglia intera di acido muriatico. Le vittime del 7 gennaio furono due soltanto per una casualità. Alle 18 e 20 circa di quel giorno, buio invernale all'esterno, Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti, Vincenzo Segneri, Maurizio Lupini e Giuseppe Daudino stavano per chiudere la sezione del quartiere tuscolano. Gli assassini, un commando di 5 o 6 persone a volto coperto, armi in pugno, secondo le testimonianze, li aspettavano fuori per ucciderli tutti. Ciavatta, Bigonzetti e Segneri davano le spalle alla strada. I killer aprirono il fuoco. Segneri, colpito a un braccio, riuscì a spingere Lupini e Daudino all'interno e a far scattare la serratura della porta blindata. All'esterno restò il cadavere di Franco Bigonzetti, mentre Francesco Ciavatta, che aveva tentato la fuga, riuscì a fare solo pochi metri. Dopo l'ondata iniziale di proiettili, gli assassini rincorsero Ciavatta, già ferito, e gli spararono di nuovo lasciandolo per terra. Morirà poco dopo, nell'ambulanza che lo trasportava in ospedale. La tragica testimonianza dei sopravvissuti aggiunge solo orrore. Sentirono i killer imprecare perché l'agguato non era andato come volevano. Erano usciti di casa per ammazzare più fascisti possibile ed evidentemente due per loro. non erano abbastanza. Talvolta, quando non parlano le persone, parlano le armi che sono state usate negli agguati. A parlare, nel caso della strage di H. Larenzia, è in particolare una mitraglietta, una pistola mitragliatrice Scorpion, utilizzata per la strage, ritrovata molti anni dopo in un covo delle Brigate Rosse. Una mitraglietta con una storia davvero particolare. Valerio Cutronilli è un avvocato romano. Da anni è impegnato a ricercare la verità sulla strage di Bologna. E' autore di H. Larenzia, quello che non è stato mai detto, un lavoro accurato sulla strage e sul percorso fatto della Scorpion, di cui ci parla. Attraverso i dati delle questure italiane si individuano tutti i legittimi possessori di questa arma, che ha peraltro avuto un percorso molto tribolato, perché in Italia era stata introdotta all'inizio degli anni 70, come semplice pistola. Durante questo porta a porta, che inizia nei primi mesi del 1979, accade un fatto clamoroso. La polizia bussa alla porta di una villa di Formello e apre una persona anche molto famosa, che si chiama Enrico Sbriccoli. Il nome non dice molto, perché gli italiani lo conoscono come Jimmy Fontana, il grande cantante, l'autore del brano Il Mondo, che è stato uno dei brani cult degli anni 60. E la risposta che dà il cantante ai poliziotti è clamorosa, perché dice di averla venduta nel 1977. Gli agenti della Dicos però fanno presente che questa cessione non risulta nei registri della questura. Lui insiste e dice di averla ceduta ad un poliziotto, al commissario di pubblica sicurezza del quartiere Tuscolano, cioè proprio il quartiere della strage di Accalarenzia. Anche se in quel periodo ancora non era stata accertata la presenza di una Scorpion nell'attentato di Accalarenzia. Quindi nessuno la pone in relazione con l'eccidio del Tuscolano, però si cerca la Scorpion di Moro. E Fontana dice di averla venduta a questo commissario, il quale però nega in modo deciso, dice di non aver mai conosciuto Fontana, di non essere un collezionista di armi e quindi protesta la sua estraneità al fatto. Quest'arma apparentemente scompare nel nulla, ma riappare nel 1985 nell'omicidio del professor Tarantelli all'Università di Roma da parte delle Brigade Rosse del Partito Comunista Combattente. I periti dicono attenzione, Tarantelli è stato ucciso con una Scorpion. Ovviamente non può essere quella di Morucci perché è stata sequestrata nel 79, quindi l'incubo della Scorpion di Jimmy Fontana riemerge a distanza di anni. Nel 1985 una perizia comparativa consente di scoprire che la stessa arma che ha ucciso il professor Tarantelli all'Università è stata impiegata sette anni prima nella strage di Accalarenzia. Però la notizia non avrà un'ecomediatica rilevante, anzi rimane ancora sconosciuta. Diventa di dominio pubblico l'anno dopo, quando quest'arma varca la soglia del raccordo anulare, va a Firenze e sempre le Brigade Rosse del Partito Comunista Combattente la utilizzano per uccidere l'ex sindaco di Firenze, Lando Conte. Nel 1988 viene ucciso in Romagna il senatore democristiano Ruffilli, e l'arma utilizzata è sempre la Scorpion, che viene sequestrata qualche settimana dopo durante l'irruzione dei carabinieri nel covo brigatista di Via D'Ogali che peraltro segna la fine storica delle Brigade Rosse. Finalmente la Scorpion assassina viene acquisita dagli inquirenti e i periti stabiliscono che è quella usata per uccidere Ruffilli, è quella usata per uccidere Conti, è quella usata per uccidere Tarantelli, è quella usata nella strage di H. Larenzia, ed è quella che Sbriccoli aveva comprato nel 1971 e che sosteneva di aver ceduto al commissario Cetroli, che ha sempre negato. La rivendicazione ufficiale della strage di H. Larenzia fu fatta tramite un'audiocassetta fatta ritrovare accanto a una pompa di benzina dai nuclei armati per il contropotere territoriale, una sigla che secondo le inchieste successive della magistratura faceva riferimento ai comitati comunisti rivoluzionari. Non si hanno però altre notizie di questa sigla né prima né dopo la strage del Tuscolano e gli inquirenti ritengono in ogni caso che gli omicidi del 7 gennaio 1978 siano da attribuire a un'area politica che si muoveva tra il movimento antagonista di quegli anni vicino all'autonomia operaia e militanti veri e propri delle Brigate Rosse. Di sicuro chi entra nelle Brigate Rosse dopo quegli omicidi porta con sé la mitraglietta Scorpion di cui parla Cutonilli. La strage sembra destinata a rimanere senza colpevoli. Grazie a tutti.